Benvenuti a tutti, siamo su FIFA, dopo aver pareggiato con varie occasioni la prima di campionato, modalità carriera con il Northampton, andiamo a affrontare nel primo turno della Coppa IFL Cup di Lega Inglese il Flatwood Town. Andiamo in campo e vediamo, perché velocità è lenta ma lo script di sto gioco si alza in maniera davvero incontrollabile, molto molto fatto male il gameplay, veramente qualcosa di allucinante, però tanto per cambiare un po' gioco tanto c'è sempre sta roba che io non riesco a capire se si può togliere, ditemi qualcosa, veramente perché è qualcosa di allucinante oh madonna dai, cosa serve sta roba lì, siamo in casa del Flatwood, quindi silenzio andiamo subito in campo e si parte, ok la Carabao Cup, Carabao Cup, bisogna controllare bene, bello, niente, non passa, vabbè c'è subito una rimessa, vediamo un po' cosa succede in questa Carabao Cup attenzione mamma mia grande presa, portiere preso dal vivaio, attenzione qui a questo calcio d'angolo ecco lo sapevo che lo batteva qui, no ho sbagliato io attenzione, eh grande Hoffman i due sede niente, pressano come non mai attenzione, bravissimo vieni l'inserimento, vieni l'inserimento, andiamo buono, esiste mamma mia disturbato niente, palla loro hanno la calamita in sto gioco, la calamita hanno nei piedi palla adesso da questa parte, Virginius, gran gol di Virginius questo è stato un grande acquisto, c'è una velocità sto giocatore qua ed è 1 a 0, molto bene, grandissimo gol, andiamo a rivederlo perché bellissimo, sul primo gol con la maglia del Nortento, gran gol, eh, si ha allargato bene queste sono partite da dentro o fuori in Inghilterra, non c'è andato e ritorno con quello schifo di Coppa Italia che abbiamo noi eh, fa veramente schifo questa Coppa Italia io sono molto critico col calcio italiano, non mi piace, non mi piace più attenzione chiamiamogli manuali, almeno mi chiamo chi voglio io attenzione qui mamma mia come va via bene ancora preso nostro sportierino para, eh porca miseria attenzione eh, occhio dai convey, subito messo giù calcio di condizione giovane preso da il Coventry, se non mi ricordo male bello, gira palla così, molto bene, allargati, Roushisha eh attenzione eh eh, grande Nolan mamma mia, che chiusura bello questo passaggio adesso va via Ashley va via Ashley, Ashley, Ashley prova a tiro fuori mamma mia dai dai, è giovane, ha 19 anni sto facendo crescere tutti su equilibrato perché almeno si rafforzano tutti i punti attenzione attenzione, grande Orphal vanno da questa parte cambiamo gioco bene la mette giù Virginius il tocco in mezzo va via Ashley la appoggia e c'è il 2 a 0 grande convey primo colpo a lui ed è 2 a 0 è molto probabilmente grande convey ragazzo molto interessante siamo 2 a 0 eh, grande Ashley la palla da questa parte ancora come della Nazione qui mettiamo in mezzo un gran pallone mamma mia colpo di testa ancora colpo di testa qui si gioca un po' la foca monaca è il suo calcio di punizione ma io non li so tirare quindi andiamo ad appoggiare la palla per Nolan fa partire questo tiro è nel fuori ah, tanto cross va al liver mamma mia che cifra poi li avessi io magari ah, non andrei a lavorare sicuramente con dei soldi mi farei un'attività piccola per me attenzione però da questa parte dobbiamo accelerare attaccalo attaccalo mamma mia grande presa piano ce l'hai lì bravo dai Oxford andiamo l'uscesa carissimo l'appoggio qui però è a fuori gioco ma beh non è importante vieni vieni a chiudere bravo dai occhio a batti attenzione qui questo Garner tira eh grandi grande chiusura bello ma è lunga ma perché sto filtrante quando lo schiacci vai 200 all'ora nooo mamma mia presa ma che cazzo facciamo butta la giulunga per favore vai Pollock bella Pollock Pollock Virginius Virginius addio madonna santa che velocità che c'è sto madonna sarcofago qua dio fa se la prendeva lì attenzione lancio in mezzo la chiusura deve esserci qui a centrocampo attenzione fermo fermo occhio occhio un tiro ancora è debole meno male controlla bene è tutto chiuso e allora buttati centrale bravissimo bella questa palla da questa parte vai ancora Virginius Virginius il tocco di indietro parte il tiro ribattuto Ashley mamma mia ragazzi con questi giovanotti qui giochiamo arrivano tutti dalle miniere oh vabbè vieni a chiudere richiudi attenzione ancora una presa mamma mia ma che portiere ho preso di là che parata cosa è tolta qua mamma mia bravissima attenzione tiro al volo ancora primo tempo che sta andando in cassaforte 2 a 0 importantissimo finisce un po' va bene così vediamo vederci velocemente se c'è qualcuno stanto Fulham vince vabbè poi avremo delle squadre contro vediamo un attimino McGowan mi sembra di vederlo un po' affaticato ma direi riprendiamo così siamo sempre equilibrati Conway gran gol su gran passaggio di Virginius grande acquisto questo Virginius attenzione eh va via bene contrasta il tiro ma c'è sempre lui mamma mia è tutto chiuso chiudono molto bene bello il passaggio andiamo andiamo accelera eh che è buona Ashley la palla qua pollo carica il tiro mamma mia drizza sta banana di io fare un frutterio merda poi sicuramente che se passiamo il turno c'è poi quelle di premier quindi lasciamo lasciate ogni speranza voi che entrate oh mamma mia qui abbiamo rischiato eh ma non c'è spazio e allora lo troviamo qui sempre su di lui guardalo centrale guardalo che si inserisce grande che inserimento che inserimento e sono tre mamma mia che gol ma che passaggio grande virginio osca intuito che c'era i 6 libero in mezzo bellissima 3-0 adesso faremo poi qualche cambio vediamo attenzione la palla qua indietro Gardner non ci arriva eh grandissimi ma comunque qui sbaglia tutto vabbè buona che errore qui mamma mia che errori però impostazione non bisogna sbagliare così bravo Pollock la palla ancora da questa parte Solverby Solverby punta la porta partettino fuori bravo Solverby deciso di tenerlo attenzione che c'è il primo cambio qui Harrison per Gardner andiamo a vedere anche noi se c'è qualcuno un po' stanchino andiamo a toglierlo ragazzi perché non possiamo rischiare nulla McGowan direi di andarlo a togliere mettiamo Hoffman se c'è in panchina no Harryman scusate abbiamo anche Conway io direi di togliere no mettiamo desiderio no mettiamo a parre ok dai facciamo questi cambi così giusto far giocare un po' tutti io prediligo per una panchina non tanto lunga ma una panchina che ci siano giocatori almeno uno per ruolo almeno uno bravo McGowan anche Conway mamma mia bel ragazzo gioca bene lancio lungo eh bravo no l'hanno a ragionare qui bravo andiamo avanti Harryman sbaglia tutto stavolta cerca di recuperarla e la recupera e la recupera madonna cos'era supereroi che fallaccio andiamo Harryman bello questo lancio l'appoggio di testa soberby bello lancio qua in mezzo dial 1 2 invece no andiamo in mezzo ma sbagliamo tutto attenzione ebusene 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 allarga qui c'è il passaggio in mezzo ma dai doppietta doppietta teca va piace il limone 4 a 0 grande prestazione in coppa un punto in campionato per adesso attenzione l'uscesa attenzione che questo fa grandi falcate controllati ma è presa grande presa bel rinvio gran compo di testa qui ah G6 non ci arriva è difficile contrastare su FIFA ma grande riscesa bravissimi grande può giocare anche terzino sinistro meno male a rimane bella qui niente 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 provo che i controlli delle volte siano troppo reattivi devono essere basati più equilibrati controlli anche nei passaggi perché sono in casino nella potenza di questo gioco perché questo che e allora mette in mezzo questo pallone mamma mia ancora in mezzo madonna madonna soberby mamma mia meno male che l'abbiamo tenuto partita che ormai va in cassaforte ancora soberby soberby non vuol tirare fa passare il tempo giustamente Bussele Bussele uuuuuh minchia ma sto Bussele è fenomenale pagato pochissimo ma guarda quest'altro bevi bevi roba buona rimane al pollo esce il palo mamma mia il palo puttana miseria ladra bello questo tocco ancora qui per appare appare conquista sempre il pallone calcio di risuola tanto entra maior questo è un buon centrale ragazzi prendetelo perché è forte ma meglio poi ripeto adesso abbiamo una squadra che più è un po' più debole di noi però con quelle di premier sarà tutta altra storia allora andiamo avanti ancora con virginio la palla in mezzo un tocco di miseria mamma mia che partita che ha fatto Bussele bravissimo a scaricare indietro vai so e v che grosso un po' un po' un po' rete barba papà 5 a 0 e abbiamo la bonanza equadoriena del polo del sud riparte 5 a 0 direi che oramai ah madonna grande pollo cambiamo Solerby è fuori gioco siamo il turno va bene così attenzione che potrebbero segnare sta in porta presa sta in porta pasticcio e la palla in rete c'era fallo sul portiere lì però c'era fallo sul portiere lì ma va li vediamo un attimino veloce no no e finisce così 5 a 1 passiamo il turno siamo contenti abbiamo giocato una grande partita contro una squadra chiaramente non è da mettere con quelle dei premier però no no nessuna intervista andiamo avanti vabbè dai ragazzi ci salutiamo qua e ci rivediamo al prossimo episodio che sarà in campionato contro il vabbè ok alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.